Il Corriere dei Videogames Bene ragazzi e bentornati sul canale del Corriere dei Videogames In questo video quattro ragazzi, quattro eroi, quattro stupidi Tenteranno di compiere il cosiddetto overdrill su Payday Perché sto andando a mandare, perché il Warwolf sei in questa posizione? Perché sto a mangiando E fermo, è immobile Merda! 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 Mamma mia, me la son vista no brutta tipo di... Mai per non farmi quando mangio Quanta vita che avete Slapus, tanto probabilmente moriremmo prima noi Eh lo so, infatti Merda! Shit! Lui con tutta la tranquillità del mondo Si mette a mangiare Merda! Merda! Oh vai, fai il con, fai il con Vai aiutalo C'è uno che mi aiuta proprio L'abbiamo buffata grandissimamente comunque Shit! Ma sto fio della merda come finisce? Eh in effetti quanto... Quattrocent... Da stanti stavo a cento secondi, quattrocento ancora Mamma perché... Sono... Meno di sette minuti dai ragazzi Resistiamo No, sono più di sette Sette minuti e otto Shhh! GG Del trago Resti infelizzeroni Falcon tu hai ancora la tua borsa di... Muni? No Warwolf tu hai ancora la tua borsa di... Si Medi... Non c'è la borsa medica Chia, chia No, 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 no No, già no No, già no No, già no Beh, non c'è la tua borsa Mi chiede non c'è la tua borsa Lei si può chiedere? Non c'è la tua borsa Ah, non c'è la tua borsa salope il medico io no oh cazzo hola hola get a bolla hola hola get a paletti in your ass get a war world in your casa with an egg per le feste dei grandi e dei piccini arriva wolf con i legabbini fuck wow 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 come è passato questo vai con noi oh ma che cazzo guarda la verità dietro i don't know se ci arrivano anche da dietro siamo fregati fanno nutrire queste quattro libertà no no non è che è arrivato da dietro l'avete lasciato passare e era ancora vivo non ve ne siete accorti ahhh 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 quanti giochi giusto giusto si sono convinto anche io vai figlioli ahhh sto qui di mangiare via falcon via 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 falcon 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 torni dietro torni dietro via 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 vado mi sei salvato all'ultimo chi l'ha presa la cassa di munizioni? io ho preso l'ultima volta ma ne ho ancora un ultimo guarda la cassa medica scudo scudo qua destra ahhh 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 io della merda ho finito di mangiare adesso se ne fattuti e ora che wolf ha finito di mangiare mi mangierà non ce n'è più per nessuno muoio uhhh anca what a f*** what a f*** non chiedermi come sono vivo uhhh non chiedermi come la cazzo di botta che fanno loro come di verno si mi piace usarlo si ispira potenza mh si ispira violenza Tanta Ispirai mi rendo sotto il coppio di cazzo tua Che bello Salute Oh finito Mamma mia questi uber convinti C'è proprio un saluto Facendo 18 secondi 118 secondi 2 e 18 Ah Ma metto fatigliare fatigliare così ti dai depulli la vita Ok Qualcuno pronto a Sì Questo io Aiuta la sclapus Va vai Ok Wow 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 Ma la quanta cazzo vita che hai recuperato Tantissimi Minchia Minchia Au Poco fatto al pieno Oh Cristo E' finito E' finito E' finito Beppe No a Berlino Ma voglio fare l'overdrill Andiamo a Berlino Beppe Andiamo a Berlino Cazzo Signori 140 secondi 140 secondi Dai 2 minuti 2 minuti 2 minuti e 20 Eh yolo Non ci so Hola hola Come direbbe Warwolf Get e bolla Volola get e bolla Get e bolla No è meglio è bolla Scusa Warwolf Mi puoi rispondere su whatsapp Ti avevo mandato un messaggio Di quella verso le due Eh ciò sbico Io so il cellulare Eh della dinutile il cellulare Ma come sto Eh no scusa Se puoi guardare un messaggio E rispondermi Ti chiedo eh Se puoi Cito venga Rispondo dopo Sì sì Certo Non adesso Intendevo Ci manca solo che Un minuto e mezzo Dai Una seconda C'è C'è Lo faccio Dai 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 Oh dopo Fioi dopo che entriamo la Mettiamo borsoni Warwolf tu metti il borsone medico E io metto il borsone di munizione Dieci secondi Oh ragazzi ragazzi Oh Fioi arretiriamo qua Arretiriamo qua in maniera tale Da essere pronti ad entrare dopo Dopo il borsone medico No no aspetta Warwolf dopo Ragazzi Beh Due Un minuto Un minuto preciso Ok good Itty mood 38 40 42 40 40 45 43 50 80 Mi stai facendo salire Ansia Tutti sti messaggi No è boloni No è mai metterci là Perché se vengono qua Sotto Ti spargono Eh è vero C'è redone Warwolf Eh vedi L'occhio del rapinatore esperto Eh L'occhio del napoletano 30 secondi Ho tanta vita mi dicono Da darne via proprio 44 messaggi Scudo Scudo a destra Scudo a destra Scudo a destra Ostia Lo scudo non c'è più Ah quell'immagine di Whatsapp Sono io Come sei tu Sono io Gli puoi rispondere per messaggio per favore Perché Cioè Aspetta aperto Buon pochia vi 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 No copritemi Copriamo qua copriamo qua Fiori Sott Vescafus Non andare dentro Venite fuori Venite fuori Metzo Ma chi va a coprire 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 E' da coprire Coprire via via uovo il primo per si troppo per favore ecco perfetto. 4 4 4 4 5 6 troppo e troppo come se nessuno vuole è fallito vai con calma basta che non lo sbagli tanto guardiamo siamo piuttosto in difficoltà qui non è che te l'hanno rubata i napoletani ce l'ha fatta ce l'ha fatta corri 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 che cazzo è tutta sta roba porca troia livello trentanopone 4 merda livello 25 è questo sto livellando questo è il livello 30 quanto cazzo sto livellando anche io eh che cazzo è un po' cazzo è un po' pacchetto ho preso di buonanotte munizioni con gli ultimi colpi ma adesso la medibag adesso magari se ne dobbiamo anche andare vero 12 mi piaceva tanto questo capo è abitabile tipo werewolf 23 livelli ho fatto ma dietro 24 23 livelli porca puttana sono livello 46 è da mezz'ora che compare la targa qua via 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 anche sto livellando come un disperato io sto livellando a 46 sono arrivato madonna oh sei un mito di sei un bomber ma sono ad acce ah sto libero che bello via 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 47 addirittura sono salito di un altro livello qui a caso faccio non 16 adesso io sono al 34 adesso 3 continua via 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 ci via qua 4 oh la vera scandalo valeva la pena gli ha dato un sacco di nuova armi, via 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 da lì buona buona, via 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 via, occhio qua, occhio qua l'ho diteso, l'ho diteso abbiamo fatto un'impresa storica, l'hai registrato tutto? carlo, si è fermato porca puttana no, non è vero via 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 che è stato? merda, merda, che cazzo ci fa qua? porca miseria il colpo è fatta signori, è fatta vai merda no, vorrei far notare il numero massimo di vittime e il miglior il numero massimo di vittime speciali 117 e ucciso i 217 persone mai così 235 livello 47 fatto 27 livelli comunque ragazzi vogliamo salutare prima di congedarci no, ciao va bene ma sburu tutto tutte belle cose non limitate le parole che abbiamo detto da noi soprattutto quelle che ha detto werewolf tutte quelle con la U e se avete quattro amici coglioni come... no scherzo se avete quattro amici pazienti aziendi come... oh dio mi fate una bella rottura di minchia però mi fate un po' come secondo di me quindi alla fine i nostri eroi sono riusciti a completare il grande colpo se volete altri video su payday con altri amici in compagnia vi ricordo di lasciare un bel mi piace e un commento grazie a tutti